Oggi abbiamo appena terminato la sesta tappa del Giro E, siamo partiti da Castel Sant'Angelo sul Nera, un gioiello purtroppo colpito dal terremoto che speriamo presto si possa risollevare, una tappa impegnativa con due salite molto impegnative, una subito all'inizio appena partiti e l'altra proprio di 15 km prima dell'arrivo finale. Comunque tutti sono arrivati a traguardo, siamo riusciti a portare tutti i partecipanti che anche oggi hanno avuto modo di divertirsi tramite il Giro E. Grazie a tutti. Grazie a tutti.